Agostino nasce con la sindrome di Charge, una malattia genetica grave. Non riesce a respirare né a mangiare da solo. Ha minorazioni visive e uditive ed è costretto a passare i primi otto mesi della sua vita disteso su un letto di ospedale. Non permette a mamma e papà nemmeno una carezza perché associa ogni contatto fisico al dolore. Oggi, grazie ad un percorso riabilitativo studiato per lui dalla Lega del Filodoro, Agostino sì può camminare, sì può vedere da un occhio, sì può essere anche coccolato da mamma e papà. Aiuta Agostino e tanti altri bambini come lui a raggiungere tanti altri sì. Sostieni la Lega del Filodoro con una donazione regolare. Grazie. 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 Grazie.